partendo dal presupposto che per sicurezza dopo aver fatto sto video vado un attimo al bagno a controllare le mutande perché penso che qualcosa ci sta sicuro ma ragazzi miei noi non possiamo permetterci di fare queste partite così nel senso siamo partiti bene perché passi in vantaggio sul 2 a 0 ma gonalon cioè tu sei un giocatore di livello di caratura internazionale guarda qua il microfono mamma mia non posso più guardare di caratura internazionale ti permetti davanti alla tua area di rigore a 3 cm di fare che cosa di perdere un pallone che consente al carabag non solo di segnare un gol di quelli record mondiali ma di far riaprire una partita che non si doveva assolutamente riaprire ciao non v'ho salutato bello a tutti i tag mamma mia ragazzi mamma mia siamo tornati a questo nuovo video perché si portiamo a casa una partita tre punti molto importanti ma abbiamo fatto quello che dovevamo fare soprattutto se vogliamo sperare in qualche modo di arrivare se almeno secondi al giro nelle Champions League anche se sarà molto difficile oggi non c'era altra soluzione che la vittoria perché secondo me l'ho già detto in altri video ma lo ripeto Chelsea e Atletico Madrid hanno 6 punti in cassaforte messo a cascar telefono contro il carabag quindi se tu stasera non vincevi manco terzo saresti arrivato e va bene così Gonalon l'ho detto una partita proprio inguardabile secondo me manco ai pulcini lo dovevano mettere cioè se giocava con i pulcini uno dei 70 anni contro quelli dei 5 perdeva palla pure con loro che vogliamo aggiungere nel complesso la prestazione all'inizio mi è piaciuta ma la Roma cala troppo di intensità di prestazione e io non capisco sti cali sicuramente non so fisici bensì semplicemente psicologici siamo passati da esse i padroni del campo alle pecore che si facevano mettere sotto da un carabag che non sembrava per niente qualcosa di minimamente preoccupante voglio un attimo andare a guardare gli assist che sono stati fatti ragazzi miei perché il primo lo ha fatto pellegrini se non mi ricordo male sì gol di Manolas bel gol in tuffo di testa e poi c'è stato il gol di Edin Dzeko su assist di El Sharawi vogliamo aggiungere qualche altra cosa voglio sapere da voi se la Roma secondo voi ha meritato la vittoria oppure se il carabag meritava il pareggio secondo me guardando la partita è tutto no vabbè alla fine la Roma l'ha portata secondo me meritatamente a casa perché il carabag a parte gli errori nostri che fanno parte del gioco per il resto non è che c'ha poi impensierito ma fa ricordare la partita così vabbè fammo finta e niente mi piace commentate condividete iscrivetevi al canale volete il post partita stasera della Juventus contro l'Olimpia cosa lasciate like su questo video vi lascio in descrizione il link del maestro 2.0 che a prendere i pronostici è veramente molto bravo io la chiudo così ragazzi miei per fortuna che abbiamo portato a casa i tre punti mantengo la promessa vado al cesso a controllare il problema che sicuramente un ragazzino dei tre mesi come minimo va bene bella rega